Per un malinteso senso della par condicio, la par condicio non c'entra affatto, non c'entra proprio niente. La par condicio già era discutibile, poteva prevedere di spostare la proiezione, la messa in onda quando era finita la campagna elettorale. Ed è anche discutibile questo, perché la legge non lo prevede, solo l'applicazione, il decreto di applicazione della legge prevede, ha esteso questa cosa qua. Questo non c'entra assolutamente niente. Direi che è stata fatta una censura che non ha precedenti in Italia, non ci sono precedenti. L'unico precedente bisogna andarlo a prendere nelle dittature staliniste.